Quanto valgono i nostri dati sanitari? È perché le aziende non riescano a proteggerli contro la grande criminalità internazionale. Ciao, sono Vittoria Gnoretto, questa settimana uscirà l'undicesimo numero della mia newsletter gratuita, diritti in salute sui temi della sanità e dei diritti. In questo numero parlo dei furti dei dati sanitari, ma anche di tanti altri argomenti, dei disastri prodotti dalla legge sulla droga in Italia, dei meccanismi continui di privatizzazione del servizio sanitario nazionale, delle scelte sciagurate della Commissione Europea sul Covid, per non parlare delle politiche della Nestlé in giro per il mondo. Un mondo che noi, come vent'anni fa col movimento alter mondialista, continuiamo a voler cambiare. Se vuoi iscriverti alla mia newsletter, il link è in bio e non dimenticarti di sostenere diritti in salute.